Buongiorno e bentrovati alla Rassegna Stampa, l'appuntamento quotidiano con l'informazione di Teleluna. Napolitano spinge per un governo dalle larghe intese, intanto Berlusconi annuncia mi incontrerò con Bersani. Non si sa ancora quando, ma si incontreranno i due leader dei due partiti, rispettivamente quello del Partito Democratico e del Popolo delle Libertà, per discutere dell'ipotesi governissimo. L'ipotesi governissimo che era stata scartata fin dall'inizio proprio da Pierluigi Bersani, ma è stata ritrattata in un certo senso dallo suo partito, che ha aperto all'ipotesi di parlare di un dialogo appunto con Silvio Berlusconi, dialogo su un governissimo che invece aveva scluso fin dall'inizio anche il Movimento 5 Stelle. Vedremo come andrà a finire. Non va meglio la situazione, non migliora la situazione a Napoli, divisa tra ZTL ed episodi di microcriminalità. L'ultimo è avvenuto ad Aversa, dove ha perso la vita un ragazzino di 14 anni, vittima di uno scontro nella movida casertana, ma alla base ci sarebbe, anche se non sembra essere proprio il movente dell'assassino, del ragazzino, sono tutti nipoti di boss coinvolti. Un episodio davvero suggestivo che a soccorrere il ragazzo è stato il nipote di Don Peppe Diana, il sacerdote ucciso proprio dalla camorra. Andiamo a vedere i giornali, cominciamo dalla prima del Corriere della Sera, che apre su Margaret Thatcher, che ci ha lasciato ad 87 anni, mito del liberismo mondiale, fu primo ministro dal 79 al 90, la figlia del droghiere, che segnò un'epoca. È partito il processo di santificazione al leader del Partito Conservatore inglese, dal leader addirittura dal 75, aveva solo 23 anni quando è stata candidata per la prima volta, Margaret Thatcher, dopo due fallimenti è diventato primo ministro. È stata soprannominata la Donna di Ferro per le sue critiche aspre all'ex Unione Sovietica, ma la sua vita politica non è stata tutta rosa e fiori. Donna di Ferro è stata una donna rigidissima, nell'84 chiuse gran parte delle miniere statali e da qui è nata l'Irad, proprio dei minatori che ieri sollevati hanno commentato la morte di Ella Thatcher come proprio un sospiro di sollievo. Sarebbe stato un mondo diverso, ha detto il leader dei minatori, sarebbe stato un mondo migliore qualora non ci fosse stata Margaret Thatcher, perché dall'84 all'85, dopo la chiusura delle gran parte delle miniere statali, c'è stato un lunghissimo sciopero che durò appunto un anno, dopo il quale minatori e sindacati dovettero cedere alla Donna di Ferro, dovettero cedere 20.000 persone in mezzo alla strada e poi un processo che portò alla privatizzazione delle miniere. Noi andiamo avanti, sempre dalla prima del Corriere della Sera, il titolone per quanto riguarda la politica del Corriere Napolitano spinge per l'intesa, elogio del partito DCPC del 1976, nuovi falsi moralizzatori del Movimento 5 Stelle, occupiamo il Parlamento, Berlusconi incontrerò Bersani, serve un governo. Quindi Napolitano che fa riferimento al governo DCPC del 1976, anche se stiamo parlando di altri tempi, in un differente contesto storico ma con personaggi diversi, Napolitano fa riferimento a Berlinguerra, oggi un altro Berlinguerra non esiste. Due ragazze di 15 anni per la cronac confessano, voleva struparci, lo abbiamo ucciso, ad Udine si costituiscono dopo la morte di un pensionato. Prima pagina del mattino, al coltellato al cuore a 14 anni, Aversa finisce in tragedia rissa tra adolescenti durante la Movida, l'assassino ha solo 17 anni, sul suo profilo Facebook un mi piace alla fiction, il clan dei camorristi. Si indaga ovviamente anche sui social network e sui nuovi miti, su quelli che sono diventati nuovi miti per i giovani a partire da queste fiction sulla camorra, ricordiamo anche su quella che scampia il clamore che aveva suscitato e poi come è andata a finire. Anche il mattino sceglie come fotonotizia la scomparsa della Lady di Ferro, così è stata ribattezzata dai russi, modello Thatcher per l'Italia, gli esperti sono divisi. Suo teorema sulle privatizzazioni, a cui facevo riferimento anche in apertura, è di certo uno di quelli destinati a restare nella storia per molti un mito, peraltro un esempio, peraltro ancora una brutta pagina della storia. Ancora nel taglio basso, Udine, confessione, shock, due quindicenni, dubbi della procura, voleva violentarci e noi lo abbiamo ucciso, mentre sulla destra, sempre nel taglio basso, nulla osta per operarsi fuori regione, la campagna, nuove regole per la sanità, servirà l'autorizzazione. Prima del mattino di Napoli, apre sulla ZTL, i commercianti si spaccano, dei magistris accolti, correttivi richiesti, in piazza Dante una messa contro l'isola pedonale, Chiaia domani serrata a metà, lineatura di Confcommercio, Confesercenti rinuncia. A centropagina la fotonotizia è dedicata al corteo di Napoli Sociale, sono stati caricati i manifestanti, e scandalo rifiuti i consorsi di Bacino, ci costano 53 euro a testa ogni anno. Ancora la rabbia dei consumatori, la vediamo di spalla sulla destra, sempre dalla prima del mattino, è il caro ticket, l'ira dei pendolari, occupata la sede di Unico Campania. Trasporti esplode la rabbia contro la beffa degli aumenti, gara a tre per rilevare e a bus in corsa, anche un gruppo privati, i sindacati, garanzie per i lavoratori. Ancora il caro biglietto che tiene Banco a Napoli, dopo ci sono tantissimi disservizi che non sono assolutamente diminuiti mentre il biglietto è aumentato. Andiamo a vedere la prima del Corriere del Mezzogiorno, serrata, domani Napoli chiude. Anche il Corriere del Mezzogiorno titola sulla crisi della città, la maggiore organizzazione di commercianti sfida l'aggiunta su ZTL e mobilità. Ascom protesta confermata, dal Comune abbiamo ricevuto solo parole, una Napoli ancora divisa per quanto riguarda i grandi eventi e appunto la ZTL. Aversa la paura dei ragazzini, Emanuele ucciso, temiamo la FAI, da titolo del Corriere del Mezzogiorno sull'episodio del giovane 14enne ucciso. E poi a destra di spalla troviamo le due interviste, una a Narducci che ha detto Napoli mai tanto degrado, il doloroso stato della città è sotto gli occhi di tutti, a Napoli il degrado è aumentato perché non ci sono stati cambiamenti e sono stati fatti molti passi indietro. E poi Maddaloni della Camera di Commercio, il sindaco torna indietro, nell'occhio del ciclone è finito ovviamente De Magistris, faccia uno, due, tre passi indietro, la Coppa America funziona ma il piano traffico no, la serata dei commercianti sono solidale con loro. Andiamo a vedere nei dettagli gli episodi di cronaca che abbiamo visto in primo piano, partiamo ovviamente dall'omicidio di Aversa, rissa tra i nipoti del boss, titola il mattino, muore accoltellato a 14 anni, Aversa dramma nella notte, colpito al cuore, feriti altri quattro ragazzi, a via in Monte del Chirico, penso il cartello al centro della rite tra i ragazzi, c'è stato un via vai di amici in ospedale, dice il mattino due dismessi, altri due ancora ricoverati. Altra pagina sempre riguardo all'omicidio del 14enne, lacrime per Manu il comico, la preside era nel posto sbagliato, fiaccolata con il vescovo, la mamma, chi ha ucciso deve pagare. Su questa notizia noi ci fermiamo, è stata approfondita dalla nostra redazione con un servizio, chiedo alla regia di mandare in onda. Un ragazzo di 15 anni è stato ucciso la scorsa notte mentre si trovava davanti all'ufficio postale di Aversa nei pressi di un pub. Il ragazzo si trovava in compagnia di altri quattro amici quando all'improvviso è arrivato un giovane di 17 anni che conoscevano ma non frequentavano. Ne è nata una lite per banali motivi. Il 17enne ha impugnato un coltello e ha ferito tutti e cinque i ragazzi coetanei tra loro. I cinque feriti, tutti minori, sono stati portati in ospedale dove il 15enne, colpito al cuore, è morto dopo due ore di agonia. I carabinieri hanno subito indagato sulle parenteli dei partecipanti alla lissa e il 17enne, arrestato con l'accusa di omicidio, è risultato figlio di un uomo che ha piccoli precedenti per reati contro il patrimonio. Il ragazzino ucciso si chiamava Emanuele di Caterino e abitava a San Cipriano d'Aversa. Era nipote di Gaetano Iorio, esponente del clan Schiavone, sottoposto a sorveglianza speciale. Un altro dei feriti è invece il nipote del boss Michele Zagaria, cioè il figlio della sorella, mentre un terzo è nipote di Salvatore Nobis, elemento di spicco della fazione Zagaria. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto dopo aver ascoltato il racconto di due testimoni, amici delle vittime che si trovavano in via di Chirico quando è scoppiata la rissa. Due di quattro ragazzi 15 anni aggrediti sono stati medicati e dimessi dai medici dell'ospedale di Aversa. Di poco conto le ferite subite durante l'aggressione. I restanti due invece sono ancora in ospedale, affidati alle cure mediche, ma non risultano in gravi condizioni. Eccoci ritornati in studio, riprendiamo la nostra resegna e cambiamo argomento e ritorniamo alla prima del Corriere Mezzogiorno per parlare della crisi che sta attraversando la città di Napoli. Ha parlato Narducci, Napoli mai così degradata, almeno si riparino le buche in strada. L'ex assessore, ora giudice a Perugia, preoccupato dal deglino della città, c'è recrudescenza criminale, manca persino la cura dei luoghi più belli. E sulla risposta di De Magistri che si dice che i grandi eventi fanno parte di un processo ben definito per riportare Napoli, per far diventare Napoli una città internazionale. Non vedo una vittoria del rigore né il delinearsi di una città europea, netta l'affermazione per quanto riguarda l'intervista di Narducci. Scontri davanti al Comune, sono stati feriti due dipendenti dal Corriere del Mezzogiorno in piazza la Napoli Sociale senza stipendio da tre mesi. Il Sindaco risolveremo tutto. Tra il 2004 e il 2008 gli addetti della società sono passati da 100 a 420 e c'è una inchiesta della Procura su assunzioni dirette. Il mattino, commercianti divisi, domani ci sarà una serrata a metà. Confcommercio sul piede di guerra, Confesercenti si sfila. Il Sindaco, fatti atti concreti. Ancora una volta il Sindaco risponde con molta quasi superficialità. La situazione è abbastanza grave, bisogna intervenire. Piazza Dante, una messa contro l'isola pedonale. L'iniziativa e le associazioni del quartiere preghiamo per ottenere un dispositivo più giusto. Ancora al centro ovviamente la ZTL. La beffa dei consorzi in rivolta. Dal mattino parliamo degli sprechi per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, stipendi pagati dai napoletani. I dossier della protezione civile costano 50 euro ogni cittadino occupato il Duomo. Ieri una decina di dipendenti del club consorzio unico di Bacino hanno protestato nel Duomo occupando simbolicamente appunto il Duomo. A sia la truffa dei subappalti, indagine su quattro dirigenti, parliamo ancora di rifiuti, ma il GIP Iaselli ricetta richiesta di interdizione, servizi e lavori nel Mirino. Passiamo avanti e parliamo del caso aumento dei biglietti. Per quanto riguarda i trasporti unico esplode la rabbia contro gli aumenti. Sono stati occupati gli uffici del consorzio. I comitati accusano mezzi scadenti e costi più alti. Costi più alti per quanto riguarda i trasporti a Napoli. Sono aumentati la settimana scorsa, c'è stata la rabbia e c'è ancora la rabbia per quanto riguarda i pendolari che devono andare incontro non solo all'aumento del biglietto, ma ai tanti disservizi che sono appunto aumentati. Gare a tre per rilevare e a Vobussi in corsa anche un gruppo privato. Oltre a Dea, Volding e CTP anche il CLP parteciperà al bando per le corse. Ultima notizia e poi passiamo alla politica. Accoltellato per lo sguardo a una ragazza. Parliamo ancora di cronaca. L'aggressore anche in questo caso ha solo 17 anni a Santa Anastasia. Scontro tra il fidanzato e l'ex a pochi passi dal santuario, mentre ci ripropone anche nella foto il mattino l'arma del delitto. Piazza del Gesù, minacce e pestaggi. Giovane sfregiato. I titolari di quei locali chiedono aiuto qui a terra di nessuno per il giovane sfregiato che abbiamo visto appunto ieri. Il presidente Chirico annuncia entro l'anno un presidio dei vigili urbani. Noi andiamo avanti, cominciamo a parlare di politica. L'ho detto in apertura l'apertura appunto di Napolitano che spinge verso un governo, un governissimo. Intanto vediamo le istituzioni come si comportano dopo il voto. Napolitano, l'argentese nel 1976 ebbero coraggio. Il capo dello Stato aveva con la scelta di Enrico Berlinguer, no affinte moralizzazioni che distruggono la politica. Ad avercelo, direi io, un altro Berlinguer, forse oggi non avremmo tutti questi problemi per quanto riguarda la politica, ad avere la maturità, ad avere i partiti che c'erano in quegli anni. Forse non c'era questo scenario a cui oggi stiamo assistendo. PD, il duello è sul governo di scopo, il vero nodo è l'esecutivo del Presidente e con il voto in autunno il Sindaco in corsa. Parla Letta, per il colle anche nomi di donne, i Renziani e la carta Boldrini. Il nome delle donne o comunque il nome dello successore di Napolitano, tanto dipenderà da questa chiacchierata che ci sarà tra Berlusconi e appunto Bersani perché una delle condizioni che ha posto proprio il Cavaliere a Bersani per comporre appunto questo governissimo tra PD e PDL è la parità nell'esecutivo tra i due partiti e un moderato appunto al colle, dopo che sia il Presidente della Camera sia il Presidente del Senato sono finiti appunto a sinistra, a partito di Bersani. Nel caso del Presidente della Camera in realtà è centrosinistra ma la Boldrini è stata eletta nelle liste di Selle, Sinistra Ecologia e Libertà di Vendola. I 5 Stelle no al voto anticipato e oggi occuperanno l'Aula. Sciagura, le urne a giugno, hanno detto quelli del Movimento 5 Stelle, protesta per le commissioni, occuperanno l'Aula perché secondo gli esponenti del Movimento 5 Stelle le commissioni possono essere fatte anche se lo prevede la Costituzione, anche se non ci sia un governo. Ma il Movimento 5 Stelle dice sempre di no a tutto, è contro sempre e comunque. In cima alle liste delle inelegibilità c'è Silvio Berlusconi, poi i suoi legali Longo e Ghedini e poi parliamo degli assenti, Grasso ha chiesto ai gruppi le designazioni per le commissioni, mancano PDL e il neonato Gall del Fratelli d'Italia. Noi andiamo avanti, parlando sempre di politica e l'annuncio di Berlusconi, ieri Berlusconi vedrò Bersani, finalmente è disponibile, giorno ancora da fissare, il leader del PDL, subito un governo forte. La strategia, il Cavaliere lavora su due tavoli, da un lato la trattativa, dall'altro il voto anticipato e il messaggio. L'ex Premier vuole stanare gli avversari, basta in idea, servono provvedimenti urgenti. Altre due notizie per quanto riguarda la politica, andiamo a vedere quello che ci riguarda più da vicino, nella regione Campania, welfare, scontro sui fondi, i crediti vanno onorati, è duello sui tagli e l'assessore così rischiano i comuni. Ancora dal taglio basso, è caos a Napoli per il corteo sociale, la polizia carica i manifestanti, i lavoratori non ricevono lo stipendio da mesi, negli scontri un ferito e un ricoverato per malore. Il Sindaco annuncia a proposito dei fondi, il cui vedevamo sopra, soldi in due giorni e che la società sarà ammessa in solidità prima dell'estate. Ultima notizia per quanto riguarda la politica, è una nota di colore, Torino come Scampia è bufera, nel PD anche San Salvario è stato inserito nella manifestazione di sabato contro la povertà, i democratici piemontesi si ribellano, protesta pure la Lega, il nostro quartiere non è degradato, vedete dalla foto che ci propone il mattino sono state messe in paragone le vele di Scampia e San Salvario, è insorto il PD piemontese con Fassino a capo, dicendo che il partito di San Salvario era un quartiere degradato, ma anche allora non arrivava al degrado di Scampia, non era una piazza di droga e oggi è diventato anche uno dei simboli della movida milanese. Noi ritorniamo alle prime pagine per cominciare a parlare di sport, lo facciamo dalla prima della Gazzetta che titola in alto sul derby di ieri sera che è finito in parità 1-1 con tantissime emozioni e i bianco celesti che sono finiti in 10, Totti Forza 9, Hernanes Doppio, Magia ed Errori, capitano in gol, record nei derby, Hernanes che ha calciato alto anche un calcio di rigore e ha segnato il gol della momentanea vittoria. Guerriglia torna allo stadio, 6 ultrati sono stati feriti, coinvolta un'ambulanza. A centropagina il caso dell'Inter, dopo il K-O con l'Atalanta, i nera azzurri alzano la voce, ma la crisi di risultati è anche tecnica, ma in discussione c'è l'arbitro, Reo di aver concesso un rigore che secondo gli interisti ha visto solo lui. Moratti non si placa, nel dubbio penalizzano noi, a Bete c'è Buonafete, gli arbitri sbagliano come i giocatori, Nicchi se uno non si fida lasci il calcio e poi polemica anche con il Milan, sul sito appare l'accusa di Bonolis, il conduttore televisivo che ha detto che i rossoneri devono andare in Champions, la replica dei milanisti è gravissimo. In effetti qualcosa non va, non vogliamo dire che si tratta di malafede, ma in effetti anche quello che abbiamo visto a Firenze non è assolutamente normale, al di là di come poi sia finita la partita, ma vedere un arbitro protagonista in negativo in quel modo che prende in mano la partita e rovina quello che potrebbe essere o quello che sarebbe sicuramente uno spettacolo è davvero frustrante, soprattutto per quanto riguarda l'Inter che ovviamente ha ricevuto anche dei favori, ma in questo caso è stata penalizzata dal rigore che non c'era e le accuse al Milan, non voglio dire che sono giustificate, ma sono in un certo senso comprensibile. Il Milan in una classifica virtuale che leggevo appunto su un noto sito di un giornale avrebbe senza favore arbitrali qualcosa come 16 a 7 punti in meno e non sono assolutamente pochissimi, cambierebbero radicalmente la classifica dei rossoneri che oggi lottano per il secondo posto appunto contro il Napoli. Andiamola a vedere questa sfida a distanza, missione Milan dal titolo del mattino, Amsic è pronto, non vedo l'ora nella corsa appunto alla Champions, il Napoli è orgoglioso dei 4 punti di distacco, siamo giunti alla svolta, è partita, è questa la partita dell'anno secondo Amsic. Prima del corriere del mezzogiorno per quanto riguarda lo sport, lasso primavera Pandev, il Macedone si è svegliato e pronota un gol con il Milan, voglio il secondo posto a Pandev che ha segnato già due gol nelle ultime partite. Veramente sembra rinato come sembra rinato il Napoli nella analisi a Ragix che ci propone appunto il mattino spettacolo e concretezza in campo, la squadra è nuovamente spietata, Campagnaro perfetto, un peccato è perderlo a maggio, Campagnaro andrà all'Inter, c'è già un accordo. Andiamo a vedere il corriere, la prima pagina per quanto riguarda lo sport, Cavani intimidito dai ricore, il corriere punta sull'unica nota dolente, l'unica nota negativa di questo Napoli delle ultime due partite, il grande mistero di tiri dal dischetto, il Matador sbaglia, un penalty su 3, ne ha sbagliati 8 su 21, è una media che non dà tantissima fiducia per quanto riguarda un calciatore che ha invece una media altissima per quanto riguarda i gol, ha superato già i 30 in stagione e ha un passo dal suo record personale qui a Napoli. Andiamo a vedere le pagine più interessanti per quanto riguarda lo sport, il duello a distanza che si concretizzerà domenica sera a San Siro verso la super sfida Napoli più brillante con un super Cavani, corse e grinta ritrovata, il Milan sarà senza Balotelli che è squalificato. Superato il momento buio mentre i rossoneri sono invece affaticati dopo il 2-2 conquistato in estremis appunto a Firenze dopo essere in vantaggio, se essere passato in vantaggio addirittura di due gol. Per quanto riguarda il duello tra i allenatori le mosse dalle panchine saranno ripreziose per la risalita e ancora scendiamo sempre dal mattino i 4 punti in più sono un vantaggio da sfruttare e anche una condizione psicologica come il mattino ci tiene a sottolineare. Per quanto riguarda il Napoli avere 4 punti di vantaggio permetteranno la squadra di Mazzari di poter andare a Milano e giocarsi la partita soprattutto per il doppio risultato, anche un pareggio andrebbe benissimo e poi gli uomini chiave, Amsic e Montolivo sono anime delle due squadre. Andiamo a vedere l'ultima pagina per quanto riguarda lo sport, più Napoli che Milan per il secondo posto titola la Gazzetta, decisivo lo scontro diretto, un quarto degli intervistati crede nella rimonta Juventus a Bayern. Sarà una bellissima sfida tra Juve e Bayern al Juventus Stadium, sarà difficilissimo e complicatissimo per la Juventus recuperare i due gol ma soprattutto per quello che si è visto in campo in Germania, una Juve assolutamente mai in partita, una Juve annientata dallo squadrone Bayern, più Napoli che Milan per il secondo posto, siamo d'accordo non perché siamo napoletani ma perché anche a mio parere i 4 punti di vantaggio giocheranno un ruolo fondamentale per la corsa al secondo posto. Ed era questa l'ultima notizia per oggi, siamo alla fine di questa edizione, vi rinnovo gli appuntamenti per domani a partire dalle 7.30, un'ora più tardi alle 8.30. È davvero tutto, vi auguro un buon proseguimento di giornata con i programmi di questa rete.